Social Film Festival, nell'ambito dell'Aquila Film Festival, all'aditorium del parco, quattro giorni in cui si trattano temi di attualità, global warming, diritto alla salute, disabilità, periferie e diritto alla famiglia e all'adozione. Nel primo giorno di festival, Greenpeace, grazie all'intervento del suo direttore delle campagne nazionali, Alessandro Gianni, ha fatto il punto sullo stato di salute del pianeta e sulla questione del global warming, proponendo la proiezione del documentario dell'ex vicepresidente americano Al Gore, una scomoda verità 2. Andrea Bellardinelli di Emergence, in fece, ha mostrato i documentari di Nicola Moruzzi, che ha fatto vedere il lavoro realizzato nelle periferie, dove il diritto alla salute non sempre è garantito. Greenpeace in Italia si occupa, per esempio, dello stato di salute del Mediterraneo, in particolare in questo momento l'emergenza e l'infinamento da plastica. Un altro grande settore di attività riguarda la produzione di alimenti nel nostro paese, ma anche con le conseguenze in tutto il pianeta, per esempio con l'attività di deforestazione in Sud America, che producono i mangimi che servono per gli allevamenti intensivi in Italia, oppure per la deforestazione in Indonesia, per la produzione di olio di palma, e poi ovviamente si occupa della questione del cambiamento climatico. L'emergency dal 2006 parte a Palermo e poi, come dico io, da Milano a Pozzallo, oggi abbiamo diversi progetti su circa sette regioni italiane e cerchiamo di dare questa prima risposta sociosanitaria ai vulnerabili che incontriamo durante il nostro percorso. Abbiamo visto che queste persone avevano difficoltà di accedere al Sistema Sanitario Nazionale. Noi offriamo un servizio sanitario di base, quindi assistenza sociosanitaria di base, con medici, infermieri, psicologi e mediatori culturali, proprio per cercare di facilitare l'orientamento e l'ingresso di queste persone all'interno di un sistema sanitario nazionale che fino a pochi anni fa era considerato uno dei sistemi sanitari migliori al mondo.